Piove, fa freddo, c'è la neve, nevischio, dovevamo fare tante cose stamattina, eh Gaia? Dovevamo andare a vedere quel posto bellissimo e invece siamo qua, perché dove andiamo con questa nevischio? Dove possiamo andare? Da nessuna parte. E siamo qui, che poi ieri mi sono dimenticato di dirvi che siamo a una chiesetta, cappella, non lo so, di San Michelo Arcangelo, l'Arcangelo Michele, quello con la spada, insomma, va? Che vogliamo fare? Vischio, che vogliamo fare? Non si mangia questo, non si mangia. Che vogliamo fare? Le nuvole, sono sopra le nuvole, fra un po' vengo coperta dalle nuvole. Vischio, che vogliamo fare? Ho capito, ho capito, ti apro, c'è, piove, ma quella deve fare i suoi bisogni, eh, dopo l'asciugo. si sta asciugando da sola, brava, asciugati bene, asciugati bene pure le orecchie. Sì, sì, ho pensato di regalatela a San Michele Arcangelo questa piantina, fai fermi. grazie. a San Michele Arcangelo. io me ne pulisco i piedi, tu no, te li devo pulire sempre io, in questa zona. piove, piove e porta brutto tempo, anche domani, dopodomani, però io sono fiducioso, voglio andare a vedere questi posti che mi hanno consigliato, quindi continuiamo a salire, continuiamo a salire e andiamo a vedere come sono questi posti. siamo verso la neve, non è che piove, qua nevita. a San Michele Arcangelo. 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 qua rimaniamo Gaia nevica troppo ci mangiamo qualcosa qua e poi continuiamo domani nevica 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 che dire siamo rimasti qui bloccati e passeremo la notte qui diciamo che questa è un'area un'area come si chiama picnic tutto buio, pesto ascoltando un po' di musica la temperatura